A te abbiamo chiesto di approfondire il tema che ti è proprio, nel senso che ricordo ormai più di dieci anni fa tutta la riflessione sulla soft economy, sulla green economy, su quello che comunque anche con Simbola state facendo e quindi è questo il tema che volevamo chiederti di sviluppare stamattina. Grazie, ci provo, grazie, sono venuto volentieri, è vero abbiamo cominciato a ragionare su queste cose parecchi anni fa diciamo, a partire anche da un tuo libro inizialmente, io vi spiego intanto come è nato soft economy, come nuova parola diciamo, perché ho il copyright di soft economy, che era il titolo di un libro che scrissi nel 2002-2003, una cosa di questo tipo, ma nasceva dal cercare un qualcosa che descrivesse l'Italia e in realtà incrociava diciamo una riflessione che allora c'era, c'era da parte di Nye e per altri aspetti di Kagan, cioè due americani, uno diciamo democratico-progressista e uno conservatore in maniera seria, Kagan, che avevano proposto due tipi di visione diciamo, che però in realtà erano due facce della stessa medaglia. Diceva Nye, Joseph Nye, diceva ci sono due maniere di stare al mondo che sono caratterizzate da diciamo posizionamenti diversi, lui parlava di hard power e soft power. L'hard power era il potere militare sostanzialmente, adesso banalizzo un po' le cose per capirci, per non farla troppo lunga, il soft power era la capacità di influenzare, cioè il fascino, la cosa. E lui diceva l'America deve scommettere di più su soft power, adesso oggi se dovessimo tradurlo in termini attuali deve scommettere più su Obama, anziché su Trump come posizionamento. Dall'altro lato sul fronte conservatore una riflessione in parte analoga, che era più collocata geograficamente, era quello di questo pensatore conservatore, siamo sempre fra la fine del Novecento e l'inizio degli anni Duemila, diciamo per capirci, Cagan, che diceva c'è Marte e c'è Venere, gli Stati Uniti sono Marte e l'Europa è Venere, no? Marte è il dio della guerra, quindi in qualche maniera quelli che al pensiero fanno seguire l'azione, l'Europa è Venere, cioè la capacità, diciamo, di, insomma, il posizionamento, ovviamente in Cagan quest'elemento era invertito, no? Cioè per Cagan Marte era il buono, diciamo, e Venere la cattiva, quelli che puntavano, diciamo, su fattori immateriali anziché puntare dritta allo scopo. Allora, quando scrissi questo libro per ragionare su come l'Italia doveva essere, cercando nell'Italia che c'era e nei figli del passato una chiave per affrontare il futuro, mi venne naturale pensare che, di creare questo neologismo, soft economy, per indicare un tipo di economia che, voglio essere chiari, non era all'inizio una slow economy, no? Cioè un'economia o una decrescita, no? Ma era una maniera di stare al mondo in cui le sfide che uno accettava, innovazione che sono obbligate, innovazione, grandi problemi, adesso voi sapete che io sono un ambientalista, potrei tenervi alcune ore sulle sventure del mondo e devo dire, respirando questa stupenda aria questa mattina è anche facile vederle, diciamo, però puntava a capire quali erano i punti di forza dell'Italia e anche lì nel libro per la prima volta si diceva che l'Italia deve fare l'Italia, cioè deve non aggirare nessuna delle frontiere che ha davanti, ma affrontarle sulla base, diciamo, di quello che è. Mi ricordo che uno dei primi convegni che fece la Fondazione Simbola a Firenze, quando è ancora Renzi che era presidente della provincia, adoperò provocatoriamente come, diciamo, invito una copertina del Time. Il Time nel dicembre del 2005 dedicò un servizio il cui tema era Italia contro Cina. L'attesi di questo servizio è che l'Italia era morta, perché siccome la Cina, diciamo, faceva le stesse cose dell'Italia, entrava nelle stesse categorie mercologiche dell'Italia, per noi non c'era futuro. Ovviamente gli diedero tutti ragione, perché noi siamo peraltro il paese più criptodepresso del mondo, nel senso che Pagnoncelli... Cipto depresso? Non l'avevo... No, c'è una caratteristica che è tutta italiana. Pagnoncelli, un lavoro fatto da Simbola sull'Italia prima dell'estate, ci ha portato uno studio molto interessante sul confronto, ha fatto su moltissimi paesi del mondo, fra come questi paesi vengono visti da fuori e come si vedono loro. E c'è un solo paese al mondo che si vede peggio di come lo vedono gli altri. Uno. Nel senso che poi si va a vedere con standing differenti, però il Perù, ognuno si vede sempre meglio dell'immagine che hanno gli altri. Noi siamo sempre... Per cui fate mente locale, scoprirete che ogni volta che c'è un attacco, anche quando sono attacchi ridicoli all'Italia, nelle classifiche eccetera, trovate sempre in Italia una grande maggioranza di persone che dicono ma hanno ragione. Beh certo. E anche quella volta, quando fu fatta quella copertina, che era bellissima come tante copertine del Time, adesso sul tablet è facile anche ritrovarsela, quando fu fatto quel servizio tutti dissero è vero, siamo finiti, non c'è più spazio per noi eccetera eccetera. La copertina di quel numero di Time Magazine era come tante copertine del Time molto bella, perché rappresentava un braccio di ferro fra un guerriero dell'armata di terracotta cinese e il Davide di Michelangelo. Quel braccio di ferro raccontava una storia completamente diversa. Innanzitutto collocava i cromosomi delle due nazioni, se vogliamo. Il guerriero dell'armata di terracotta cinese era uno dei 10.000 guerrieri di terracotta seppelliti assieme al primo imperatore cinese nel 200 a.C. visto fiumi di mercurio, pare che abbiano ammazzato non so quante migliaia di artigiani per non far scoprire dove era messa questa tomba, di fatti l'abbiamo scoperta duemila anni dopo, insomma ha funzionato. Come quasi sempre le cose cinese. Però quindi era figlio di un paese che già allora era grandissimo, Cina in cinese significa il mondo, e faceva della quantità anche uno dei suoi punti di forza. Il Davide di Michelangelo era figlia di una piccola, ristosissima città, la Firenze del Cinquecento aveva 40-50.000 abitanti massimo, ma forse più 40.000 che non 50.000, che però in tutti i settori produceva delle eccellenze. Non è solo l'arte, è ovviamente l'arte, ma era anche la tecnologia, era la finanza, era la cultura. La cupola del Brunelleschi non era un disegno, era una sfida tecnologica da far tremare le vene ai polsi. Ancora oggi c'è qualche dubbio su come quella tecnica costruttiva alla fine abbia funzionato, per non parlare della finanza. Era una città ristosissima, nel senso che Michelangelo stesso si infatua del Savonarola, che viene poi bruciato. Il Davide è commissionato dalla Repubblica Fiorentina, per cui seguaci dai medici, quando questa statua viene spostata, cercano di distruggere le assassate. E per capire anche la cultura di noi italiani, direi che i fiorentini sono ancora più ristosi di altre parti d'Italia, però senza nessun riferimento. Ma quando si capisce che questo giovane scultore ha fatto una cosa magica, una cosa straordinaria, perché il blocco di marmo da cui viene tratto il Davide era un blocco di marmo che era stato già usato, aveva dei difetti, delle fessure, e quindi lui fa una cosa fantastica, utilizzando anche i limiti, anzi facendo i conti con i limiti del blocco di marmo che trattava. Ma si capisce che lui ha fatto una cosa straordinaria e per finire con questa cosa viene creata una commissione, perché si capisce che il luogo in cui era destinata questa statua era inadatto a una cosa così bella, viene creata una commissione che se uno va a rivedere adesso i membri che ne facevano parte, tremano le mene ai polsi, perché c'erano il Perugino, il Pollaiolo, c'era una cosa mostruosa. E c'era anche Leonardo da Vinci. E Leonardo da Vinci, suppongo, che probabilmente non aveva troppo simpatia... Rosicava, diciamo. Diciamo così, tecnicamente rosicava, con la scusa che il marmo era fessurato, cioè che era delicato quel blocco di marmo, propone di metterla a fianco a un muro, con un altro muro intorno, per proteggerla, insomma, per capirci, di mettere in un posto dove non lo deve, invece poi vince il posto pesare. Ma dico questo per dire che i cromosomi dell'Italia sono quelli. Cioè, produrre cose, diceva Cipolla, produrre all'ombra dei campanili cose che piacciono al mondo. Produrre, diciamo, delle eccellenze accettando le sfide tecnologiche, non aggirando i passaggi che ci sono. Faccio un altro passaggio e poi arrivo rapidamente alle cose, perché so che poi avete distribuito anche l'Italian 10 Selfie, credo. Sì, è disponibile su tutti i siti. Sì, quindi è un po' un elenco dei primati italiani, dal green all'agricoltura, alla meccatronica. A lungo si riteneva, e c'era un grande dibattito economico, su questo, che l'Italia fosse fuori dalla competitività. Invece io dicevo, guardate, ma non è così, guardiamo un po' meglio. Noi abbiamo enormi problemi di mercato interno, ma se andiamo a vedere come siamo posizionati all'estero, la situazione è diversa. E di fatti, adesso questo è molto più chiaro, cioè molto più chiaro che l'Italia in tantissimi settori ha dei primati e sono dei settori i più vari, no? E con anche delle cose curiose, non so, anche in cose hard, la paratia d'acciaio più grande del mondo, che serve per il canale di Panama, ma la fa un'azienda italiana, no? Un'azienda che mi sembra che sa, fa Friuli e Veneto. Oppure, in campi stranissimi, la capacità italiana di incrociare i saperi produce eccellenze. Per esempio, a me diverte sempre molto raccontare che, diciamo, la... fra i tanti primati italiani c'è quello delle giostre. Noi siamo dei grandi costruttori di giostre, no? I bambini di Pechino, di Shanghai, di Copenhagen, di Phnom Penh, di Con Island giocano su giostre italiane. Noi... In Daed Vicenza e quindi Zamperla lo conosce, diciamo... Eh sì, perché è, diciamo, è fra il sud del Veneto e un pezzo di Romagna, il cuore delle giostre italiane. Ora, i costruttori di giostre, peraltro, non sono, in genere, gente che ha studiato ad Harvard, diciamo, no? Perché sono eredi di famiglie circensi, quindi sono anche ragazzi, vivaci, però perché noi vinciamo nelle giostre, come in tanti altri settori? Vinciamo perché facciamo cose più belle, ma anche perché, senza nessuna regola, senza nessuna asticella fissata dal pubblico, le nostre giostre battono quelle tedesche perché sono più leggere e consumano la metà dell'energia. Non le ha detto nessuno a quelli, no? Però la ricerca del fattore limitante, che è sempre una caratteristica dell'economia italiana, quello che vale per le giostre, vale per le macchine agricole, vale per pezzi della meccatronica, vale le piastrelle. Cosa voglio dire, per passare rapidamente, è che questa maniera di essere dell'Italia, oggi, io penso che sia la più adatta ad affrontare il tempo che viene. A me ha colpito che quest'anno, so che qui c'è una, poi ci sarà un incontro sull'economia comportamentale, no? Sì, Luciano Canova ha già cominciato con i suoi studenti in un'altra zona. Allora, cioè, a me ha colpito che anche quest'anno, dico anche perché sono, negli ultimi anni, molti Nobel avevano queste caratteristiche, chi ha vinto il Nobel per l'economia non è un economista puro. Non è uno di quelli che ti dicono se cambiamo di unenne questo algoritmo risolviamo tutti i problemi dati del 2008, no? È un economista che incrocia l'economia con la società. Nel caso specifico, lui è noto a livello di slogan per essere quello che si è inventato. La spinta gentile. La spinta gentile. Ma anche altri economisti che hanno vinto. Sono economisti che sono andati a ricercare nelle comunità, nei territori, nelle interrelazioni i fattori di competitività. Questa è una cosa che l'Italia ha naturalmente nei suoi cromosomi. Con delle radici antichissime, vi dico, io sono un patriota, quindi amo molto l'Italia e rosico anch'io, quando c'è qualcosa di altri che vorrei che avessimo fatto noi. E vi dico che solo di recente uno di questi miei rosichii si è fermato perché una delle cose, visto che voi avete fatto un incontro anche sull'economia civile, no? Abbiamo fatti due, uno giovedì, uno ieri e anche con Quinto Ampliamento che è la nuova associazione dedicata a questa, ispirata da Olivetti. Quindi siamo in piena... Un po' viene considerato il padre, uno dei padri dell'economia civile, Antonio Genovesi, che era un economista intellettuale napolitano del Settecento. E una delle cose che a me mi era sempre, insomma, mi affascinava, peraltro, c'è una bellissima frase di Bob Kennedy che dice che la prima promessa della nazione americana è quel diritto alla ricerca della felicità, no? E mi era sempre affascinato che una nazione nascente che sostanzialmente faceva una guerra anche per motivi fiscali, perché poi, diciamo, era il dazio sul tè, eccetera, nel scrivere, diciamo, il primo suo documento, la dichiarazione di indipendenza ci mette questo diritto alla ricerca della felicità che mi pareva fantastico, scritto anche bene, perché non è il diritto alla felicità, perché il diritto alla felicità può portare al polpot, diciamo, nel senso che poi non ti impongo di essere, è il diritto alla ricerca che è una cosa molto diversa. Si è plagata questa mia invidia quando ho saputo che in realtà il diritto alla ricerca della felicità gliel'avevano dato i napoletani, cioè gli italiani, cioè c'era una scuola genovesi, filangeri, che ragionava intorno ai compiti dello Stato e in un carteggio fra Franklin e filangeri nel caso specifico, mentre stanno scrivendo la dichiarazione di indipendenza, è filangeri che gli dice però quando dite metteteci anche questo, quindi in realtà quel diritto alla ricerca della felicità anche quello aveva dei cromosomi italiani. Io penso che noi dobbiamo veramente, insomma, noi presentiamo come simbola dopo domani il rapporto annuale sulla green economy che si chiama Green Italy, lì risulta una cosa che è molto italiana, che le caratteristiche della nostra competitività sono all'incrocio di molti saperi e alcuni di questi saperi sono saperi antichi che non sono neanche codificati, è una maniera di essere delle nostre imprese, cioè non so se avete presente a Guerra Stellari quando dice la forza, lui spegne diciamo il computer e fa saltare la morte nera perché ha attinto forza diciamo da cose antiche, vale per l'economia circolare e anche in questo rapporto che presentiamo sulla green economy si vede che le caratteristiche competitive più innovazione più posti di lavoro più crescita delle imprese che hanno fatto investimenti green che sono un terzo delle imprese manifatturiere per capirci quindi tanta roba sono legate a un incrocio di fattori in cui dall'industria 4.0 ai rapporti con i territori sono dominanti e se uno li guarda con occhio non pigro l'Italia trovo delle cose fantastiche adesso ve ne dico solo una e chiudo io mi è capitato la scorsa settimana di fare un giro nelle aree terremotate provincia di Macerata in particolare e lì trovi delle imprese stratosferiche adesso alcune note sono stato a lungo con Adolfo Guzzini la Guzzini è una delle aziende migliori del mondo qui ha inaugurato recentemente ha illuminato il Cenacolo ma insomma opera su Scala Mondo e va in un'azienda che mette assieme le stampanti 3D c'era un ingegnere marchigiano che parlava un marchigiano abbastanza marcato che ti illuminava cioè che aveva una capacità di leggere e mi ricordo che Adolfo mi ha detto una cosa molto intelligente ha detto noi dobbiamo fare tante cause per difendere diciamo i nostri brevetti ma noi le cause lo sappiamo che non vanno in porto le facciamo per frenarli un po' sappiamo che vinciamo solo se innoviamo perché loro in ogni caso prima di copiare il nostro prodotto ci mettono loro sono Taiwan Cina altri paesi ci mettono alcuni anni e noi stiamo sempre qualche anno avanti anche lì bellezza flessibilità bassi consumi eccetera ma quell'azienda per esempio ha dei rapporti col territorio e quei lavoratori fantastici dal tenere in vita la scuola professionale pagando la scuola di tennis per far frequentare una quantità di cose che noi umani non possiamo immaginare e sono andato anche a inaugurare l'azienda di un altro socio di Simbola che è la Nuova Simonelli la Nuova Simonelli è poco nota forse ma viene definita come slogan la Ferrari delle macchine da caffè fanno le macchine da caffè migliori del mondo stanno in un comune dell'area del cratere che si chiama Belforte del Chienti è un piccolo comune poi su piccolo comune sarebbe molto a discutere perché è un tema meccaro però è un piccolo comune di meno di 2000 abitanti hanno inaugurato questo stabilimento tenete conto che la Nuova Simonelli esporta l'80% della sua produzione il 40% Asia e Oceania un pezzo in Nord America insomma in tutto il mondo e per esempio il responsabile di Oceania è un ragazzo di 26-27 anni di Belforte del Chienti che cura il 40% dell'esportazione di Nuova Simonelli che ha triplicato il fatturato in questi anni e è di nuovo un'azienda che ha mostruosi elementi di innovazione fanno 2000 macchine da caffè diverse perché sono tutte personalizzate nei vari banchi dove la gente lavora arriva il microchip e quindi il colore il passaggio eccetera e il signore che adesso dirige Nuova Simonelli è una persona squisita umanamente si chiama Nando Ottavi a una certa età è entrato nella Nuova Simonelli da apprendista quindi sono storie di questo tipo però mi è piaciuta molto perché la trovo indicativa una battuta che lui ha fatto che fa capire qual è una delle radici della competitività italiana peraltro a Milano che è una città anche di grande impegno civile questo è anche più comprensibile lui mi ha detto che loro fanno sempre venire questo tutti i più intelligenti dei più bravi italiani lo fanno far venire diciamo l'acquirente in Italia a meno che tu non stai in un posto sventuratissimo però in Italia ci sono tanti di posti belli aiuta sempre perché non è come invitarli nel Bronx o nella Rur diciamo uno in ogni caso ecco torniamo al soft power o alla venere di Kagan diciamo ti aiuta ti posiziona meglio dal punto di vista ti affascina di più insomma le storie sembrano tante ma mi ha detto che più di uno quando lui li porta in questi paesaggi marchigiani come potete immaginare già dal nome il belforte del Chienti era un forte quindi non sta in alto e quindi tu vedi queste colline ti è capitato più una volta che i giapponesi e gli americani poi gli dicessero ma bello ma quanto vi costano i giardinieri perché per loro l'idea di quella perfezione imperfetta poi alla fine diceva Bob Murray che le cose più belle non sono perfette sono speciali diciamo l'idea di quella bellezza tipicamente italiana che è data da un incrocio fra borghi terreno coltivato pezzetti vari gli sembra una cosa troppo intrigante da non essere programmata e costruita non è così noi siamo così e quindi io penso che un pezzo della competità italiana una parte del nostro soft power a parte le cose ovviamente ovvie su storia natura cultura grandi poli di attrazione è legata da questo indiviso cioè da questa appartenenza a una comunità che produce naturalmente bellezza cioè sul duomo di Barga che è molto bello perché è un duomo come a volte capita in Italia figlio di sovrapposizioni che poi alla fine producono una cosa molto particolare c'è un'iscrizione di Pascoli che termina con una frase piccolo il mio grande il nostro se noi dobbiamo secondo me partire da quella frase per dare competitività e crescita positiva all'Italia grazie grazie Ermette straordinario come sempre grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.